Ehi, che succede? Ma che stiamo da su? Che succede? Devo dare una notizia Da domani mi dimetto Ho ereditato da mio nonno che è morto un terreno 10 ettari tutto coltivato a viti Ah, e su perché ti devi dimettere? Come perché? Devo aprire una ferramenta con tutte quelle viti Bravo Geniale, geniale Se avete bisogno puoi venire da me Eh, abbiamo perso il collega